Dal 2017 Restyling Car di Gennaro Vitale ti assicuro un servizio di alto livello con personale qualificato all'insegna della qualità e della rapidità al giusto prezzo. Una rete di spaccio a cava di Tirreni che vede coinvolte sei persone ora imputate è quello che è emerso da un'inchiesta condotta dalla Procura di Nocera Inferiore. L'attività di spaccio di droga si estendeva non solo nella città metelliana ma anche in parte dell'Agro Nocerino, nella Valle dell'Irno e nella Costiera Amalfitana. Gli eventi risalgono all'estate del 2019 svelati a seguito di una precedente indagine condotta in parallelo dalla DDA di Salerno. Per le sei persone imputate è richiesto il processo, in due sono stati già rinviati a giudizio, mentre per i restanti quattro la sentenza verrà emessa dal GUP attraverso riti alternativi al termine dell'udienza preliminare. 14 i capi d'accusa ricostruiti dalla polizia giudiziaria. Nella vicenda criminale un ruolo di primo piano è rivestito da un quarantenne cavese, coinvolto in un giro di spaccio che comprendeva soprattutto la vendita di cocaina, fornita agli acquirenti a 40 euro alla volta, dietro appuntamenti concordati in luoghi scelti con meticolosa attenzione. A dare un rilevante contributo alle indagini sono state le intercettazioni ambientali e i riscontri sul campo effettuati attraverso pedinamenti e attività tecniche svolte dalle forze dell'ordine, con cui sono stati identificati degli acquirenti che hanno poi fornito informazioni sui canali dai quali ci si riforniva per l'acquisto degli stupefacenti. In questo modo la polizia e i carabinieri sono riusciti a ricostruire i movimenti di tutti gli imputati e degli acquirenti, insieme ai prezzi concordati per la vendita della dose. Tra i sei imputati ci sono persone residenti a Cava dei Tirreni e nell'Agro Nocerino. Adesso l'udienza per chi ha scelto il rito alternativo è fissata per i prossimi mesi, e gli imputati potranno chiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento per le accuse che sono state mosse dalla Procura di Nocera Inferiore. Per i due indagati già rinviati a giudizio servirà passare il vaglio del Dipartimento per provare a dimostrare la propria innocenza.